L'economia italiana continua a correre più delle attese e meglio delle altre economie dei grandi paesi europei, ma a frenare l'entusiasmo le conseguenze della decisione della BCE di alzare nuovamente i tassi di interesse. L'economia italiana continua a correre più delle attese e meglio degli altri grandi paesi europei. La Banca d'Italia aggiorna le stime sul PIL del 2023 e lo porta a più 1,3%, ma nei prossimi mesi inizieranno a pesare gli effetti dei costanti rialzi dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Tassi più alti significano mutui più cari e le associazioni aggiornano i conti. Tra un mese, avverte la Fabi, la rata tenderà a essere ancora più alta. A maggio l'inflazione riprende a scendere, tornando al livello di marzo 2023, più 7,6%. Il rallentamento è ancora fortemente influenzato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici, ma frena anche il cosiddetto carrello della spesa, pur restando ancora molto alto, più 11,2%. Non è ancora detto che si sia imboccata l'inversione di marcia, visto che continuano a salire i prezzi dei beni alimentari non lavorati e quelli dei servizi relativi all'abitazione. Il Codacons, infatti, parla di un calo dovuto ad un effetto ottico, che non riduce la sofferenza delle famiglie.